Sarà Vultur-Lavello la finale di Coppa Italia eccellenza dunque derby tra le due formazioni del Vulture Melfese. La Vultur nella semifinale di ritorno con un tris rifilato al rotonda ha ribaltato il punteggio dell'andata Scavone ha aperto le marcature nel primo tempo su calcio di rigore e poi nella ripresa Serritella e Falanga hanno dato il la per il passaggio alla finalissima e così la Vultur torna in finale dopo aver vinto per due anni di fila con Durso le due finali tra il 2015 e il 2016. Il Lavello invece dopo il 2-1 dell'andata Simone con un 3-0 a Brienza decidono una doppietta di Mastroberti e la rete nel finale di Gerardi invece nella Coppa Italia di promozione si qualificano in finale Oraziana Venosa e Oppido. L'Opido passa a Rapone grazie al gol di Provenzale dopo il 2-0 dell'andata mentre l'Oraziana Venosa rifila un tris al paterno le reti tutte nel corso della seconda frazione di gioco decidono lo muscio, lo tumulo e i vietri. Pasquale Logarzo allenatore del rotonda quest'oggi una sconfitta che causa l'eliminazione della sua squadra dal torneo della Coppa Italia? Sì, abbiamo commesso degli errori, l'abbiamo pagato, il rioniere è stato più bravo e giustamente è passato il turno, forse ci siamo cullati un po' del vantaggio dell'andata, abbiamo fatto degli errori che fino adesso non avevamo mai fatto, questo ci deve far riflettere e crescere per il futuro, adesso da domani inizieremo a pensare alla partita con l'Avello. Cosa non ha funzionato quest'oggi al rotonda? Ma cosa non ha funzionato? Di fronte avevamo una squadra motivatissima e lo sapevamo e ce l'aspettavamo una partita del genere, poi se andiamo a guardare i primi due gol su un errore del nostro difensore che in aria vuol liberare e poi ha fiscato il rigore all'arbitro, il secondo, poi non ne parliamo proprio da mai dire golle, quindi una volta 2-0 ci siamo un po' sbilanciati per cercare di fare un golletto, non siamo riusciti a farlo e niente, poi sul 3-0 la partita penso che sia finita. Detto addio alla Coppa Italia, il rotonda sicuramente si concentrerà sul campionato, capolista del girone di eccellenza, domenica però si va a Lavello, quanto è importante per voi questa partita? Ma è importante quanto quella di oggi, noi ci tenevamo, purtroppo è andata male, adesso abbiamo l'opportunità di concentrarci solo e discutendo per il campionato, iniziando da domenica con Lavello. Presidente Grande, quest'oggi possiamo dire, scusiamo il gioco di parole, una grande partita della Vulture, finale di Coppa Italia conquistata, ma soprattutto una grande soddisfazione per Mario Grande. Ma per me è la soddisfazione più grande che i ragazzi, il mister e lo staff mi potessero dare. Loro sapevano quanto per me fosse importante questa partita e veramente devo innanzitutto ringraziare tutti quanti per il grandissimo impegno che è stato profuso, senza risparmio di energie, veramente una partita giocata con il cuore così come vogliamo vedere che giochi la Vulture, quindi innanzitutto un grandissimo complimento a tutti. Cosa è stato determinante quest'oggi? Il gruppo, l'amore per la maglia, la voglia fortissima di andare in finale che è un obiettivo importantissimo. Tutto questo cocktail credo che abbia contribuito oggi veramente a vedere in campo una grande Vulture. Una vittoria sul campo, una vittoria per la squadra ma soprattutto una vittoria per lì. A chi dedica questo successo? Ma lo dedico alla città di Rio Nero perché veramente io all'andata purtroppo siamo usciti ingiustamente sconfitti a Castelluccio e io ero sicuro, sicurissimo che al ritorno, grazie anche al nostro dodicesimo uomo in campo, avremmo ribaltato il risultato. C'è qualcuno che, ma non dovrei neanche parlarne perché dare fiato alle nullità veramente oggi non sarebbe proprio il caso, ma qualcuno ha ironizzato dicendo che il Corona era il maracanà della Basilicata, dicendolo in tono canzonatorio e ingiurioso. Ebbene, abbiamo dimostrato che si sono portati a casa tre gol e quindi non credo, non credo veramente che ci sia la possibilità di fare assolutamente nessun paragone. Pasquale D'Urso, allenatore della Vultur, quest'oggi possiamo dire una super Vultur che ha dominato la partita, ribaltato il risultato dell'andata con una grande prestazione e ha conquistato meritatamente la finale di Coppa. Ottimo gioco, possiamo dire che tutto è andato bene. Una sua analisi sulla partita? Ma intanto devo fare i complimenti all'avversario perché comunque è stato un avversario all'altezza della situazione e quindi questa semifinale è stata degna di una finale. Peccato averla sciupata in semifinale, aspettavamo tutti questo tipo di partita in finale. Quindi detto questo io devo fare i complimenti ai miei ragazzi, al mio staff, a tutti quanti, al popolo che ci ha seguito perché insomma oggi c'è stata una squadra in campo dominata in lungo e in largo e insomma il risultato la dice Lunga, non credo e non ricordo una parata del nostro Gigi, potevamo farne ancora altri tre di gol, insomma poteva finire con un punteggio più netto, meritato, a dimostrazione di una netta superiorità della nostra squadra rispetto all'avversario. A qui vanno comunque i miei complimenti. Cosa è stato determinante per la conquista della finale e soprattutto cosa gli è piaciuto di più della sua squadra? Ma noi solitamente la nostra squadra è questa, esprime questo. Oggi tenevamo in particolare modo raggiungere la finale, farla bene, dare dimostrazione a noi stessi che siamo sempre in crescita e questo era importante per alzare un attimo l'asticella, la nostra consapevolezza, ma non è altro che il frutto del lavoro che facciamo. Ripeto, devo dare atto che ragazzi in tutto e per tutto insieme stiamo facendo un percorso straordinario, insomma. Questo è il dato, quindi siamo tutti contenti, ora godiamoci questo risultato fatto attraverso il gioco, fatto attraverso una dimostrazione di forza, ma soprattutto di consapevolezza di quelli che siamo e di quelli che sono gli avversari. Una stagione fin qui esaltante per la Vultur, terzo posto in campionato, finale di Coppa Italia conquistata, entusiasmo dei tifosi alle stelle, in città c'è un entusiasmo che forse erano anni che non si vedeva, che messaggio si sente di dare ai tifosi? Guarda, noi da parte nostra non ci esaltiamo, nel senso che questo è solo da monito e ci dà solo la spinta a lavorare sempre di più e a crescere in certezza e in consapevolezza rispetto a tutto ciò che stiamo facendo. Certo ci mettiamo tutto quello che è nelle nostre possibilità, nelle nostre forze, nella nostra mentalità, quindi non possiamo che continuare a lavorare, a farlo bene cercando di migliorare ancora quei margini che la squadra ha da migliorare e quindi non possiamo che metterci entusiasmo nelle cose. Il messaggio che mi sento di dare, spero che la gente apprezzi questo e sia vicino alla Vultur non solo nei momenti in cui si cresce, ma anche nei momenti in cui c'è qualche partita che magari nonostante le prestazioni ottime fin qui fatte, magari c'è sempre un bastian contrario, qualcuno che con semplice pregiudizio butta su critiche inutili sulla squadra su tutto il mondo Vultur, ma questi li lasciamo a quelle persone che non sono tifosi della Vultur. Ciao! Grazie a tutti.